terrazza martini siamo con marcello trentini mago rabin quanta magia c'è in martini tantissima un'azienda storica che ha cambiato il modo di bere e al mondo intero il tuo rapporto con torino io sono nato a torino sono diplomato in belle arti sulla storia di torino di conseguenza più di così non si può tra l'altro sono un tornese un po atipico perché l'ho amata talmente tanto che ho scelto di abbandonarla di allontanarmi per poi tornare e farne la mia sede quanta storia è legata martini a torino beh 100 per cento torino è la patria di martini e del vermuth in generale di conseguenza più di così non si può l'abbiamo esportato davvero in tutto il mondo questa sera vi siete divertiti a fare delle creazioni come giudichi tu l'importanza anche della mixology nella cucina assolutamente oggi come oggi sono due ruoli imprescindibili dell'accoglienza il il proporre agli ospiti dei drink al posto che solo esclusivamente il vino in una cucina fan dining è un abbinamento perfetto vince funziona io lo faccio da quando ho aperto all'inizio così come dall'inizio ripristinato l'uso del vermuth come aperitivo qualche chicca sul vermuth da assaggiare nel tuo ristorante ma noi facciamo tutta una serie di drink classici tipo il martini e tonic ma anche tipo il negroni rielaborati con delle bottaniche personalizzati in abbinamento dei piatti un po' stravaganti come quelli che faccio io grazie a tutti grazie a tutti Grazie.